Ciao, sono Marco Vicentini, ho 32 anni, vengo da Ferrara. Sono in Kaizen Institute da aprile del 2020, quindi in piena lockdown, ho cambiato lavoro. Ciao, sono Filippo Veraldi, ho 25 anni e sono ingegnere gestionale. Sono arrivato in Kaizen Institute ad aprile 2019 e ricopro il ruolo di Kaizen Engineer. Lavoro quindi in affiancamento ai consulenti senior, ai diversi progetti. Ciao, io sono Matteo, ho 25 anni e sono in Kaizen Institute da circa 7 mesi. All'interno di Kaizen Institute, in questo momento, il mio ruolo è quello di Kaizen Engineer. Quindi sono all'inizio del mio percorso di crescita, che mi porterà a diventare un Kaizen Trainer e successivamente un senior Kaizen Trainer. Il mio focus in questo momento è affiancare i senior Kaizen Trainer in vari cantieri in modo tale da accumulare esperienze e competenze da poi riportare nei cantieri che andrò a gestire in autonomia. Il mio percorso di training all'interno di Kaizen Institute è... Diciamo che la pandemia, quindi il lockdown che abbiamo avuto, su questo punto di vista mi ha un po' aiutato perché essendo entrato a marzo, fine marzo, inizio aprile, ho avuto modo di essere aiutato dai miei colleghi, ovviamente non in presenza però via Teams, per cercare di iniziare ad entrare nel mondo Kaizen. A maggio in poi, quando abbiamo avuto la possibilità di poter andare dai clienti, il mio percorso di training è stato affiancato, è stato essere affiancato da un senior Kaizen Trainer che mi ha portato nelle varie aziende per cercare di mettere in pratica quello che avevo già visto. Da quando sono in Kaizen Institute ho lavorato in modo attivo all'incirca 20-25 progetti e il fatto di aver vissuto molti progetti diversi reputo sia stato il fattore che mi ha fatto crescere di più. Infatti, oltre ad affrontare tematiche diverse, si lavora sempre con dei team diversi e anche all'interno del team di Kaizen Institute abbiamo la possibilità di lavorare con i diversi senior Kaizen Trainer. La viaggio molto, sono molto spesso in macchina, ma la fortuna è che poi quando arrivo nelle aziende in base al tipo di cantiere che stiamo sviluppando, la mia giornata prende una piega diversa. Oggi facciamo un cantiere qualità, ieri ero a Perugia e abbiamo fatto un cantiere sul sviluppo dei fornitori e sulla pianificazione della produzione. Quindi la mia giornata fortunatamente è molto varia. Pur essendo entrato in Kaizen Institute da poco tempo, in realtà ho avuto modo di partecipare già a tantissimi cantieri, quindi devo dire che poter affiancare dei trainer fortissimi e poter vedere un sacco d'aziende mi ha aiutato molto ad accrescere le mie competenze tecniche sicuramente e ovviamente il mio livello d'esperienza e ho già iniziato anche ad applicare qualcosa in autonomia. Una cosa che ho visto e che ho avuto la possibilità di sviluppare anche interiormente è stato il cambio di paradigma. Quindi vedere come una cosa che sei sempre abituati a vedere in un modo, poi può essere vista totalmente sotto un altro punto di vista, avendo dei risultati molto più evidenti. Quindi questa stessa cosa come la applico nel lavoro, sto cercando di applicarlo anche alla mia vita quotidiana e quindi cercare di capire cosa facevo sempre nello stesso modo e cosa potrei fare in maniera diversa e quindi migliore. Il punto che è Kaizen Institute sia posto giusto se si vuole crescere, nel senso che l'ambiente è molto dinamico e anche sfidante. Quindi la crescita non è solo da un punto di vista delle competenze tecniche, infatti i progetti sono diversi tra di loro, ma è anche delle competenze relazionali potendoci interfacciare sempre con dei team diversi e interfunzionali. Grazie per la visione!